Amici di FanoTV, questa mattina ci troviamo proprio davanti alla bottega del caffè ed eccellenze artigianali. Segnatevi bene questo nome perché sarà uno speciale che racconterà e soprattutto spiegherà tutto quello che contiene questo negozio, ma non solo, scopriremo chi sono i protagonisti, parleremo con qualche cliente e soprattutto per tutti i golosi, gli amanti del buon vino, gli amanti del buon caffè, devono assolutamente vedere questo speciale perché c'è tanto da imparare e soprattutto c'è tantissimo da gustare. Io entro. Eccomi qua che stiamo entrando con le nostre telecamere, buongiorno, buongiorno Alessandra. Ho sentito parlare di Alessandra, ho detto guarda vai perché ti accoglierà sicuramente Alessandra, poi avremo modo sicuramente anche di incontrare il titolare che ci sta aspettando là dietro le telecamere, lo stiamo guardando da qua, ma io allora visto che siamo in mattinata e insomma la mattina gli amanti del buon caffè, poi soprattutto noi italiani e noi fanesi, e ti posso dire una cosa, una confidenza mia personale, tutti gli amici lo sanno, io ho un debole per il caffè, forse ne prendo anche troppi al giorno, questo è verissimo, però mi piace tanto a qualsiasi ora del giorno, ecco allora la bottega del caffè, io naturalmente... specializzata giustamente nel caffè, esatto. Per me, ma soprattutto per tutti gli amici che ci stanno guardando da casa, ci puoi dare qualche dritta, qualche aiuto, qualche consiglio magari per il caffè? Assolutamente sì, vieni, guarda ti mostro tutto quello che abbiamo. Allora ci spostiamo di là. Alessandra, ci siamo spostati, ci hai accompagnato un po' in questo, posso dire, regno del caffè, perché già si sente un certo tipo di aroma, peccato che la televisione ancora può passare, no, le emozioni, ma non può passare ancora l'odore del buon caffè, ecco, per assaggiarlo bisogna venire qua alla bottega del caffè. Assolutamente, anche perché vedrai, abbiamo veramente tantissime varietà di caffè. Se vuoi ti spiego un attimo quello che proponiamo. Io sono curioso di sapere, un po' facci una bella carrellata di quello che proponete qui alla bottega del caffè. Allora, guarda, ti spiego subito, noi proponiamo capsule e cialde compatibili, compatibili per diversi caffè, quindi per le capsule della Nespresso, la Lavazza Modo Mio, la Lavazza Point, Caffitali, Lavazza Blu, insomma, tutti... Più ne ha più ne metta, diciamo che c'è un po' di tutto. Esistenti noi ce li abbiamo, sì. Abbiamo tantissime aziende, come puoi vedere, alcune sono nostre esclusive, come ad esempio il caffè Verzi, che è un caffè siciliano, il caffè Rechico, anche questa è un'altra nostra esclusiva, il caffè Poli, che è una ditta artigiana, insomma, abbiamo tantissime varietà. Poi, oltre alle capsule e alle cialde, abbiamo anche i caffè in grani, il caffè per la moca e poi anche i solubili, quindi anche ginseng, orzo, cioccolate, tisane... Ecco, a me viene da dire, perché in questi posti credo che la differenza la fa un po' di avere anche quei prodotti che sono considerati un pochettino di nicchia, però proprio per gli amanti di un certo tipo di caffè, come vedo, parlavi poco fa di un caffè siciliano, ma anche per chi si vuole far consigliare, perché secondo me è quello che fa la differenza in un negozio, oltre ad avere naturalmente una vastità di prodotti in ampio raggio, ma anche un qualcuno di competente che ti aiuta. Cioè, secondo me, magari il tuo gusto può andare su questo, oppure, guarda, provati questa scatola, perché sicuramente è qualcosa di particolare. Poi, Davide, aggiungo un'altra cosa che noi facciamo qui dentro, ed è importante dirlo, il cliente non è mai obbligato ad acquistare un pacco da cento intero, io posso vendere il caffè anche sfuso, e questa è una cosa importante che non tutti fanno. Magari una prova, dici io... Esatto, un mix di assaggi, io le posso fare, posso fare tutti, insomma, tutti i mix che vuoi. Sicuramente i signori dal divano di casa avranno detto, cavolo, allora voglio andarmi a provare magari quel siciliano, quello l'altro, vengono qua via del fiume 22, giusto? Perché non abbiamo detto dove eravamo. Via del fiume 22 sicuramente ci sarà Alessandra che vi consiglierà il migliore dei modi, io sicuramente adesso sto pensando su che tipo di caffè andare, perché insomma un amante come me, diciamo, quasi quasi gli vorrebbe provare tutti. Sì, poi giustamente come hai detto tu prima, il caffè è anche molto soggettivo, c'è chi ama l'arabica, c'è chi ama la robusta, quindi è un caffè un pochino più corposo, insomma ci sono vari tipi di caffè e quindi io se posso li consiglio volentieri. Sicuramente c'è anche chi in famiglia ha gusti differenti e quindi è bene magari avere diversi tipi di caffè. Sì, assolutamente sì. Piano piano sto imparando qualcosa di più, forse magari chissà che non mi assumete anche qua. Se vuoi provare qualcosa, guarda volentieri, se vuoi ti offro un caffè, perché noi poi offriamo anche il caffè. Molto bene, molto bene. Noi accettiamo, noi accettiamo. Dopo il caffè offerto da Alessandra sono qua fermo al reparto vini perché insomma devo preparare una cena, ho amici a casa come succede a tanti, ma avrei bisogno di qualche consiglio perché insomma sono un pochettino qui, c'è un po' di imbarazzo della scelta, chiedo scusa, chiedo scusa, piacere Davide, Fano TV, ecco immagino il titolare, sì titolare, Michele Morelli, ecco allora Michele io ti chiedo un favore, ti do del tu perché siamo un po' in amici, ti chiedo un favore perché mi sono fermato qua davanti al reparto dei vini, un po' da profano perché non sono proprio un grande intenditore, ma ho gente a cena, siamo in tanti, c'è anche chi è amante del vino, quindi non voglio fare brutta figura, come in tanti succede a casa, ecco ho bisogno di un consiglio appassionato, proprio spassionato. La prima domanda che facciamo è carne o pesce perché giustamente o rosso o bianco il vino. Questa sera carne, una bella classica grigliata di carne insieme tagliata. Perfetto, perfetto, allora con la carne noi consigliamo questo qui, questo vino qua che è della San Filippo, un vino biologico di Ofida, di Ascoli Piceno, è un montepulciano in purezza, barricato di due anni ed è un vino molto molto corposo, quindi se è una carne diciamo tipo, non so, fiorentina andrebbe benissimo, oppure carne di cinghiale, cacciagione eccetera. E da lì abbiamo un taglio di vino che è questo, che è il Catarsis, che è un Sangiovese e montepulciano insieme, che risulta un pochino più morbidino come vino e poi da qui possiamo passare ad altri vini nostri marchigiani, come per esempio abbiamo la Cantina Ferriera, che conoscerete già, di Santa Maria dell'Arzilla con i loro rossi, quindi un Sangiovese, un Sangiovese barricato in purezza. È bello vedere tutti i prodotti della zona, quindi comunque della nostra provincia, quasi a chilometro zero. Esatto, noi abbiamo solo vini marchigiani, tranne chiaramente i prosecchi, gli champagne, perché noi non li produciamo. È impossibile magari averli in casa. No, infatti, abbiamo scelto questa tipologia di vini puramente per dare il massimo ai nostri clienti come qualità di vini della nostra zona e soprattutto qualità prezzo. e abbiamo fatto questa scelta per dare, diciamo così, ai nostri clienti un prodotto aggiunto in più, insomma, ecco, per dargli i nostri vini del nostro territorio e farli conoscere soprattutto. Ecco, se fosse stato pesce, invece, visto che sono qua, sono curioso perché a me è piaciuta un po' questa cardellata, voglio sapere. Benissimo. Allora, il pesce abbiamo tanti altri vini come, per esempio, il Chardonnay, prodotto qui nelle Marche, sempre dalla San Filippo, il Falerio, il Pecorino e, molto famosa, la Passerina di Ufida, chiaramente. E da qui abbiamo anche una Passerina spumantizzata. Da qui abbiamo tante altre cantine, per esempio, sempre di Ascoli, abbiamo la cantina, questa qui, la Gozzana, che loro propongono Passerina, Pecorino e Rosso Piceno, e Rosso Piceno Superiore, barricato sempre. E da qui passiamo poi a, eventualmente, chi volesse, dei digestivi oppure... Sì, perché a fine cena, insomma, a termine della cena serve un buon digestivo. Qui vedo che cena di tutti i tipi. Cena di tutti i tipi, esatto. Abbiamo delle grappe barricate alle grappe normali, anice, chiaramente prodotte sempre dal nostro territorio, limoncino, bananino, abbiamo la classica moretta, zuccherata e non zuccherata, quindi abbiamo le due scelte di moretta e, novità, la crema di moretta. Questo è molto, molto nuovo come prodotto, diciamo, nella nostra zona e lo fa solo questa azienda che noi proponiamo. Quindi noi di Fano TV, insomma, Fano, i fanesi e non solo qua nel nostro territorio, siamo un po' amanti della moretta, quindi avere un liquore così particolare si può trovare qua alla Bottega del Caffè. Continuiamo, continuiamo, perché, insomma, mi sto un po' appassionando, voglio sapere. Andiamo ancora avanti dalla liquirizia, al pistacchino, al nocino, per andare poi a dei liquori, degli amari per fine cena. Proviamo il velino borgia, che è una vecchia ricetta proposta dai borgia ed è tutto a base di erbe, quindi non vi posso svelare giustamente il segreto di questo prodotto, però se venite ve lo facciamo anche assaggiare. Amaro del furlo, perché giustamente richiama la nostra zona e chiaramente che non poteva mancare l'amaro al tartufo. E anche una sambuca fatta con il sambuco, perché giustamente è una sambuca particolare, sempre prodotta nella nostra zona, molto molto particolare, molto profumata, molto aromatica. Insomma, da assaggiare. Michele, una carrellata bellissima, ma io voglio entrare ancora più nello specifico, perché c'è sempre quell'amico a cena, il signore da casa sicuramente dirà il nome vero, che è appassionato dei vini, ma non solo, magari vini biologici, vini particolari, ne avete? Ne abbiamo, ne abbiamo tanti. Allora, continuando sempre in questa direzione, abbiamo questa cantina, sempre la San Filippo, che propone addirittura dei vini biologici senza solfiti aggiunti. E quindi è una particolarità di questa cantina, che vogliamo pubblicizzare, perché sono anche molto molto buoni. Giustamente sono dei vini che vanno consumati nel breve, perché altrimenti non si mantengono come tutti gli altri vini, però sono chiaramente molto qualitativamente molto buoni e soprattutto naturali, senza solfiti aggiunti. Per gli amanti proprio del naturale. Poi ce n'è un altro... Questo qui è un senza solfiti barricato, quindi stagionato di due anni in barrique. Quindi è anche una chicca, una novità proprio per i vini senza solfiti, che non propongono tutti. Da qui in poi ci spostiamo di qua. Perché continua ad esserci vini, è bellissimo. Vini eccetera, abbiamo di tutti i colori. Abbiamo sempre della cantina San Filippo, i famosi bag in box, che adesso stanno andando tantissimo. Da 3 litri o 5 litri. Esatto. Sono curioso, abbi pazienza, Claudio, ma mi permetto un pochettino di... Vi faccio vedere subito come si apre un box. Praticamente si apre così, viene fuori un rubinetto, che è questo. Lo tiriamo fuori in questa maniera. Lo riseriamo così, in poche parole. Ecco, viene tolto chiaramente il sigillo e qui già possiamo spilare il nostro vino comandamente a casa. Questo prodotto, questo è un rosso, quindi non andrà in frigo, però il bianco lo possiamo mettere in frigo. E così facendo, aprendolo in questa maniera, possiamo tenere il box per due mesi anche senza doverlo rimettere in altre bottiglie o ritravasare in qualche maniera. Magari è difficile, non si beve tutto insieme, però si sa che per due mesi non c'è nessun tipo di problemi. Per due mesi non ci sono problemi. Lo possono utilizzare perché la sacca che è all'interno è senza aria, quindi è sotto vuoto. Quindi il prodotto non si mantiene. Questa potrebbe essere anche una bella idea regalo, magari quando si è invitati voglio portare qualcosa di diverso. Con gli amici, in campagna, in questo momento poi possiamo tranquillamente andare in spiaggia e portarci, che ne so, un bag in box da tre o cinque litri e con gli amici fare un bel picnic. Ecco, giusto per... Questa potrebbe essere una bella idea regalo. Ecco, io ancora mi permetto di guardare, di sfruttare, leggo nomi insomma di altre cantine sempre del nostro territorio. Abbiamo la cantina Morelli di cui io sono un nipote, quindi un parente. Si può dire che si gioca in casa. Sì, esatto, esatto. Questo lo conosciamo molto molto bene e sinceramente conosciamo anche pregi e difetti, insomma, di tutto quanto. Poi abbiamo la cantina Mariotti, sempre qui della nostra zona di Villanova, Montemaggiore, che anche loro propongono dei prodotti veramente veramente unici e buoni a livello qualitativo, perché è tutto prodotti fatti della nostra zona. In più, abbiamo qua giù in fondo, se vi posso far vedere la vetrina, abbiamo Lucarelli. Lucarelli di cartoceto, di ripe, che è un prodotto sempre nostro, locale, quindi di cartoceto, che anche loro hanno vinto diversi premi. Abbiamo, diciamo così, la riserva di Lucarelli, il famoso goccione, il roccio e addirittura abbiamo i nuovi vini che propone Lucarelli. Dal Pino Nero, San Giovese Barricato e via discorrendo, insomma. Più tutti gli altri che abbiamo sempre della zona, che è per esempio questo qui a Pagliari, di Monte Felcino. E spostandoci leggermente di qua, abbiamo anche i contiazoni di macerata, con dei loro prodotti molto particolari, come il grechetto, che non è un prodotto marchigiano, ma è un vitigno prodotto sulle marche, e abbiamo sotto anche un merlot, sempre prodotto nelle marche. Quindi nelle marche sappiate che si producono anche questi tipi di prodotti, che magari non sono propriamente marchigiani, ma con dei vitigni trapiantati qui nelle marche. Michele, io ti ringrazio perché mi hai fatto fare una panoramica bellissima per quello che riguarda il vino, ma la nostra spesa ancora non è finita, quindi credo che dopo questo breve spazio, ancora le immagini di questo incontro, torneremo perché ho altre domande da farti e da farvi. Mi permetto di entrare in questo momento di acquisto perché noi oggi siamo venuti un po' a invadere il campo della bottega del caffè, allora noi siamo di Fanu TV, lei il signor? Francesco Cortese. Il signor Francesco che sta comprando qua la bottega del caffè, allora noi siamo venuti un po' a curiosare, vogliamo sapere un po' come si trova in questo negozio. Ma lo dicevo poc'anzi, io qui mi trovo abbastanza bene, la signorina è cordiale, gentile, affabile, quindi non trovo più aggettivi per dimostrare la mia gratitudine nei suoi confronti. Noi sappiamo e ho sentito parlare di Fidelity Card perché qua i clienti hanno anche una card particolare Alessandra. Sì Davide, guarda te la mostro subito, allora è questa qui, praticamente con un acquisto minimo di 10 euro io rilascio un timbro, arrivati alla fine della scheda c'è un buono di 10 euro. C'è un'altra cliente qua alla bottega del caffè, mi permetto di fare un'intrusione, ecco, sta un po' vagando tra la birra. Tra la birra. Il tuo nome, ti do del tu dai. Sì certo, Monica. Monica, ecco, sei una cliente abituale qua alla bottega del caffè? Sì, ho la macchina del caffè, quindi acquisto spesso il caffè, però acquisto anche altri prodotti perché poi quando vieni qui puoi acquistare il vino, se hai una cena, l'olio, la birra che io adoro e di solito prendo questo tipo di birra qui. Anche perché giustamente la bottega del caffè è d'eccellenze artigianali, giusto? Certo, c'è un po' di tutto come dicevamo. Anche se uno vuol fare un pensiero, un regalo, devi andare a una cena, vuol portare una cosa anche un po' particolare, qui la trovi. Ecco, in questo caso tu hai preso la birra. Io adoro questo tipo di birra, però ho visto che ce ne sono nuove che io non ho mai provato. Allora, mi fai delle domande troppo difficili per me. Michele, scusami, c'è il titolare che è sempre sul pezzo, si può dire, lo facciamo arrivare. Abbi pazienza Michele, ma qua si parla di birra. Sì. Ecco, dacci qualche consiglio perché Monica sta guardando la birra, ma io a questo punto alzo le mani perché bisogna far parlare, io spero. Va bene, va bene, allora vi spiego un po' queste birre. Allora, la Land Beer, questa è un original, quindi è una birra export perché è artigianale e molto molto dolce come prodotto. Quindi è una birra che rimane molto dolce al palato e quindi molto gustosa, soprattutto per i palati anche femminili. Poi ci spostiamo qua e vi faccio vedere anche altre birre che sono, per esempio, questa, la Dunkel, che è sempre una birra artigianale, della BK a questo momento, ed è una birra che praticamente è molto ambrata, cioè praticamente una birra scura. Questo direttamente da? Tutto questo dalla Germania, perché noi abbiamo solo birre tedesche, perché loro propongono qualità-prezzo imbattibile. Perché si può dire che i tedeschi tanto sono sempre stati migliori nella birra. Sulla birra possiamo dire di sì, sulla birra sì, esatto. Poi passiamo ancora ad un altro prodotto, sempre della BK, che è questo, è la L, quindi sempre un birrificio a BK. È una birra molto dolce, molto profumata, molto morbida. E da qui si passa poi a un'altra birra che è la Pils, quindi un pochino più, no scusate, questa qui qua. Questa più amarognola, quindi è una birra un pochino più tosta, diciamo, per un palato un pochino più, diciamo, esperto, perché rimane un pochino più secca come birra e un pochino più amara. Da qui si passa poi a un'altra, sempre un'altra birra della BK, birrificio a BK, sempre di Monaco, che è la Weiss, quindi una birra poco lavorata, poco filtrata ed è una birra molto, molto amabile per chi ama, chiaramente, le Weiss. Si può dire per tutti i tipi di palati, nel caso volessi fare un'altra cena, visto che io, insomma, cerco un po' di unire l'utile al dilettevole, con della pizza per gli amanti della birra, qui abbiamo di tutto. Abbiamo di tutto, avete di tutto, sì, esatto. Poi tutte le birre in bottiglia, rigorosamente bottiglie di vetro, quindi nient'altro che i prodotti. E quindi possiamo passare anche a un prodotto molto conosciuto che è la Paulaner, sempre questa qui, è sempre una L, sempre di Monaco, anche perché, vi ripeto, secondo noi qualità-prezzo i tedeschi purtroppo sono imbattibili. Grazie Michele, non è finita qui, io chiedo scusa, grazie Monica, perché insomma siamo un po' come sempre noi arriviamo, facciamo un po' gli intrusi della situazione, ma ci piace un po' curiosare per il negozio, ma non è finita qui ancora, questo speciale va avanti. Esatto, vi volevo proporre anche dei prosecchi, per esempio, che ci spostiamo in questo scaffale qua, che abbiamo, cominciamo dal Cartiz, conosciutissimo, sempre nella zona di Valdobbiadene, ed è un prodotto ricercatissimo, perché è molto profumato, un vino molto molto buono, dolce, con una bollicina molto piccola. Quindi sempre la stessa cantina Varaskin, parlo della cantina Varaskin, perché fa parte della confraternete Prosecco, quindi qualitativamente siamo sulla zona Valdobbiadene, quindi i migliori prosecchi che abbiamo in Italia. Quindi la sezione e la qualità del Brut, molto più secco del Cartiz, poi abbiamo il Prosecco, sempre Varaskin, della superiore, e il Mildose, che sarebbe il millesimato, quindi con una bollicina pochino più, ancora più piccola, e quindi molto più profumato e molto più morbido e con un gusto veramente eccezionale per il palati. Prosecco e poi anche dei Prosecco minori che abbiamo scelto, sempre di questa cantina, però sempre Varaskin, quindi l'Extra Dry e il Kenko. Per passare poi chiaramente allo champagne, abbiamo il Voleroo, che nella bottiglia rosa ha vinto un premio nel 2016, ed è uno come uno dei migliori champagne del mondo. E quindi non so cos'altro proporvi. Più di così, questo credo che sia... Allora, la cena si può dire che è completata, io ormai ho tutti gli ingredienti, anzi, quasi quasi mi viene da dire che per un primo avrei bisogno di un consiglio, ma questo ne parliamo tra poco. Va bene. Vogliamo sapere un po' dal punto di vista del cliente com'è questo negozio? Questo negozio è piacevolissimo, io trovo il pretesto per venirci, perché non bevo caffè, non bevo vino, non bevo birra, però... Può sempre capitare... Può capitare qualche ospite. Ecco come è capitato a me, e quindi è giusto essere sempre pronti. Sì, Alessandra è cortesissima, sembra che parlo così, come se fossi pagato, ma non è così. Sì, tutto quello che dico lo dico con convinzione. Oggi che cosa ha comprato, visto che siamo qua? Sì, un po' di bianco lo bevo, preferisco alla passerina, preferisco il gemello, che non ricordo come si chiama. Poi invece vedo della birra artigianale. Sì, questa è per mia moglie, la birra che piace a mia moglie. Vi avevo lasciato con questo primo da preparare e vedo che qui c'è un grande aiuto, perché vedo uno scaffale con la pasta, ma giustamente bisogna avere il consiglio giusto. Michele, abbi pazienza, ancora sono qua un po' a chiederti, perché ho bisogno ancora una volta di consigli. Qui leggo, pastificio artigianale, ma voglio sapere qualcosa di più. Esatto, sì, questa è un'eccellenza artigianale italiana. È un pastificio che propone pasta all'uovo e quindi ogni chilo di farina ci vanno 10 uova ed è tutta biologica. Quindi è una pasta che sicuramente è molto digeribile, molto buona e sicuramente non è un pastificio, perché Campofilone ci sono circa 100 pastifici a Campofilone. Non basta dire è di Campofilone, c'è Campofilone e Campofilone. Assolutamente sì, loro propongono questo tipo di pasta con uova biologiche, farina biologica prodotta dal loro mulino, perché hanno anche il mulino, ed è quindi un'eccellenza. Quindi non è proprio un pastificio qualunque, qualsiasi insomma, ecco, quindi è un prodotto veramente, veramente esclusivo. Vedo un po' di tutto, quindi dai maltagliati, tagliatelle, maccheroncini, che sono una loro specialità, che sono tagliati molto fini. Per esempio, potete vedere come sono dei fili d'angelo, di pasta. E poi abbiamo, non so, dalla stessa sfoglia, abbiamo le chitarrine, le pappardelle, insomma tutto quello che produco. Chi ne ha più ne metta, voglia fare cena, voglia evitare persone. Ecco, io sono ancora curioso, abbi pazienza Michele, vedo alle nostre spalle, insomma, un altro tipo di esposizione con delle confetture. Esatto, sì, abbiamo confetture, che si chiama Poveromo, l'azienda artigianale che propone queste confetture, ed sono di Cantiano, quindi sono dei prodotti esclusivi, perché sono fatti proprio senza conservanti, e sono dei prodotti veramente eccezionali, sono da assaggiare. Poi abbiamo le classiche salse tartufate, come per esempio abbiamo anche delle salse, dei sughi già pronti, sempre fatti dalla Poveromo, e chiaramente abbiamo le tartufette, la crema e i porcini, e più ce ne ha, più ce ne mette, insomma, ecco, quindi... Ecco, ho trovato anche il sugo giusto per le mie tagliateline, che ho trovato. Allora, sono venuto qua solo per un qualsiasi di vino, mi sono trovato la cena già pronta. Grazie a Michele e a tutto lo staff. Allora, stiamo per concludere questa prima parte dello speciale, perché, insomma, c'è una sorpresa, perché ci sposteremo proprio fisicamente. Intanto grazie Michele. Grazie a voi, grazie a voi. E siamo arrivati alla conclusione di questa prima parte dello speciale, perché è un po' diviso in due parti, perché in questo momento salutiamo Alessandra, grazie Alessandra per averci. Grazie Davide, mi raccomando torna a trovarmi, eh. Sicuramente torna a trovarmi, ma non solo a me, anche tutto il pubblico di Fano TV, venite qua, perché sicuramente Alessandra e tutto lo staff. Siamo in tanti. La sorpresa è che la bottega del caffè non è solo a San Lazo, perché ormai da un anno a questa parte siete qua, in via del fiume 22, ma c'è un'altra sede, la bottega del caffè. Ecco, ti chiedo, giustamente il titolare deve venire con noi, perché Alessandra rimane qua per la clientela, ma il titolare viene con noi, ci accompagna fino a? A Marotta, in via Litorania, 174. Ok, bellissimo, allora ci rivediamo a Marotta, perché andiamo a curiosare anche nell'altro punto vendita. Seguiteci. Ciao. Inizia questa seconda parte, ci troviamo in via Litorania, 174 a Marotta, e siamo arrivati alla bottega del caffè 2. Ci accoglie sulla porta di casa, come padrone di casa, ancora una volta Michele Morelli. Ciao, ciao Michele. Ecco, bottega del caffè numero 2, tra l'altro giovanissimo punto vendita, perché pochissimi giorni fa è stato inaugurato. Sì, il 9 giugno abbiamo fatto l'inaugurazione, questo nuovo punto vendita, e quindi, ecco, siamo abbastanza giovani per Marotta, e quindi consiglio a tutti i nostri amici, tutti i vostri telespedatori. Amici di Marotta e dintorni. Dintorni, chiaramente. E dentro chi ci aspetta? C'è Laura, venite pure. Ok, entriamo, entriamo insieme. Buongiorno Laura. Buongiorno. Ecco, allora, le telecamere di Fanus TV in questa mattinata sono venute un po' a disturbare il vostro lavoro, abbiamo lasciato il punto vendita di Salazzolo, siamo sbarcati qua a Marotta, un punto vendita giovanissimo, ma che già sta riscontrando, insomma, un buon feedback da quello che riguarda i clienti qua di Marotta e dintorni. Sì, e la bottega del caffè, come ha detto anche a Fano, offre diversi tipi di caffè, delle buonissime marche. Ecco, noi ne abbiamo visti alcuni, ma illustraci ancora, perché sicuramente sono tantissimi, perché il negozio è speculare, ma non abbiamo detto tutto, Salazzolo, quindi dacci qualcosa in più. Ok, allora, abbiamo il Borbone, che fa sia per la Nespresso, per la Point, che la Modo Mio, e ci sono anche diverse miscele, la blu, la rossa, la oro, dipende anche dal gusto del cliente, come lo vuole più forte, più delicato il caffè. Poi abbiamo anche la Moreno, la Lollo Caffè, Berzi, Caffè Trombetta, la Re Chico, anche queste, tutte sia per la Nespresso che per la Point, per la Modo Mio. A proposito, alle nostre spalle ci sono anche le macchinette del caffè, perché non l'abbiamo detto a Salazzo, sembrava una cosa scontata, ma ricordiamo che naturalmente sono in vendita anche le macchinette. Sono in vendita le macchinette e facciamo anche il comodato d'uso. Quindi spieghiamo per chi non sa che cosa significa. Serve, cioè se magari qualcuno vuole la macchinetta, però magari ne consuma anche diversi di caffè al mese, perché hai l'obbligo comunque di consumarne un minimo 100 e venire qua da noi dopo a prenderli. Noi dobbiamo lasciare il cliente una cauzione di 50 euro e noi le diamo la macchinetta, quella che preferisce, sia a cialde che a caffè. E quindi se la può portare a casa? Se la può portare a casa, sì. E tutto questo naturalmente per i privati, ma anche per le aziende, per esempio, da tenere in ufficio in un'azienda? Sì, le aziende però non vogliamo la cauzione. Ecco, questa è un'altra particolarità che non avevamo puntualizzato a San Lazzaro, ma facciamo ancora una volta un giro con le nostre telecamere, perché poi torneremo a parlare con Laura e con Michele, perché insomma gli ingredienti, si può dire così, della bottega del caffè non finiscono qui. Allora, come sempre facciamo gli intrusi. In questa mattinata c'era una cliente che stava cercando un po' il caffè. Io mi permetto, Laura, così di disturbare un pochettino. Allora, intanto il suo nome. Katia. Allora, Katia stava scegliendo, ti do del tu Katia, che siamo così in famiglia, in amicizia, stai scegliendo il tuo caffè e naturalmente sei venuta qua in questo punto di vendita, giovanissimo, ma già insomma ben radicato qua a Marotta. Sì, sì, io ho il tempo che già li conosco, acquisto il caffè già dal punto di vendita di Fano. Adesso è a Marotta e per me è molto più comodo. Ci gioca in casa. E come no, sì, sì. Quindi, allora, in questa mattina sei un po' indecisa, stai scegliendo qualcosa, cerchi qualcosa in particolare? Sì, io ho già una macchinetta, è Point e sto cercando, diciamo, del caffè. Volevo un attimino cambiare, mi volevo far consigliare. Allora, per i consigli noi possiamo fare poco, perché io parlo tanto, ma sui consigli posso dire poco, invece Laura ne sa molto più di me. Certo. Allora, abbiamo diverse aziende, che tratta la Point, come la Borbone, il Berzy, la Trombetta, la Rechico, la Caffè Poli e dipende anche lei, signora, come preferisce il caffè, più delicato, più forte, dipende anche dalle miscele, come la torrefazione del caffè. Ecco, insomma, sono tantissimi gli argomenti, perché il mondo del caffè sembra una cosa semplice, ma in realtà dietro ha, insomma, un mondo. Ma non solo caffè, perché prima, già la telecamera è spenta, avevo sentito un po' il dialogo, insomma, stava cercando anche qualcos'altro. Sì, perché io stasera avrei una cena e volevo farmi consigliare da Michele un buon vino per accompagnare una cena elegante. Un'idea, come già proposto sul punto a vendita di Fano, abbiamo già tutte le altre cantine che già vi ho decantato prima, che sono la Ferriera, la Mariotti, stessa Mariotti, con anche la Morelli, come dicevo prima. E quindi poi abbiamo tutti gli spumantizzati, per esempio, e abbiamo anche il prosecco superiore. Quindi io, Katia, ti consiglierei un buon prosecco per cominciare la cena e poi andrei su un buon bianco. Questo devi sceglierlo te, perché sui bianchi abbiamo dal verdicchio, per esempio, al bianchello, alla passerina, al pecorino, eccetera, eccetera. Dopo dipende un po' che tipo di pietanza vuoi mettere. Però, per esempio, io che gioco e voglio giocare sempre in casa, che sono Morelli, direi un buon borgotore del Morelli che non sbagliamo mai, insomma. Ok, allora, prendiamo il borgotore del Morelli per la signora Katia e un buon prosecco, abbiamo detto, giusto? Un bel prosecco, valdobbiante del superiore, baraschin sempre, chiaramente. E così la cena è servita, manca solo cibo, però per il cibo deve sentare calda. Ce lo metto io il cibo, ecco, il resto, caffè e vino, è tutto a posto. Laura, tra un cliente e l'altro siamo ancora qui a disturbarti e chiederti se ci sono, magari, in questo momento, visto che siete un po' anche nuovi, in questo punto vendita, se ci sono delle promozioni, magari, per il nostro pubblico di Fano TV e per tutti gli amici di Fano e di Marotta. Sì, abbiamo deciso di fare un'offerta lancio, dato che abbiamo aperto proprio da poco, e di diverse aziende di caffè abbiamo optato per un pacco da 100 di capsule, viene 0,20 centesimi a capsula. Un calcolo veloce, con 20 euro, 100 capsule. Quindi questa è un po' la promozione, fino a quando? Fino alla fine di dicembre. E' molto conveniente. Ci sarà questa promozione, noi siamo contenti e ti ringraziamo per averci dato un po' di tempo, perché giustamente qua c'è da fare la bottega di caffè numero 2, ma noi, giustamente, dovevamo un po' curiosare. Ringrazio anche, vieni pure, Michele, che ci ha illustrato un po' nel suo regno del caffè, ma non solo, perché abbiamo visto tantissimi ingredienti. È stato uno speciale bellissimo, pieno di ingredienti, perché giustamente abbiamo parlato di quelli. Grazie ai ragazzi, in bocca al lupo per la vostra attività. Naturalmente, ricordiamo, visto che siamo al termine di questo speciale, tutti i modi per contattarvi, anche sui social e sul virtuale. Allora, mettete like alla pagina, sia Facebook che Instagram, così non perdete nessuna promozione nostra, che noi pubblichiamo sempre. C'è anche un sito della bottega di caffè. C'è anche un sito del www.labottegadelcaffè.it e mi raccomando, state sempre aggiornati. E poi, naturalmente, fisicamente, i due punti vendita, ricordiamo l'indirizzo. Esatto. A Fano, via del fiume numero 22, e a Marotta, via del Litorania, 174. Chiedere di Alessandra, di Laura, o del titolare. Il titolare, certo, sempre disponibili. Dietro le aziende ci sono sempre delle persone disponibili, pronte a darvi tutti i consigli. Noi culliamo qui questo speciale, grazie ancora, e viva la bottega del caffè, 1 e 2. Grazie a voi.